Salve ragazzi e bentornati su Valinor, io sono Frank e con questo video ritorno alla tanto amata serie del 4 passi nella Terra di Mezzo e in modo particolare questa volta vi porterò a spasso per uno dei regni dei uomini più famosi della Terra di Mezzo sto parlando di Gondor e allora iniziamo Gondor, conosciuto anche come Regno del Sud o Regno dei Dunedain Meridionali fu uno dei più potenti e gloriosi regni umani della Terra di Mezzo venne fondato nel 3320 della Seconda Era dai superstiti di Númenor guidati da Isildur Reanarion e inizialmente non era che un reame vassallo di Arnor all'epoca governato da Elendil durante la Terza Era divenne il principale baluardo dei popoli liberi della Terra di Mezzo contro le forze di Sauron alternando anni di grande prosperità a momenti di grande declino inoltre fu il principale campo di battaglia durante la Guerra dell'Anello e il primo maggio 3019 della Terza Era confluì nel reame unito di Gondor e Arnor a seguito dell'incoronazione di re Elessar Gondor è sempre stato un regno molto vasto che arrivò ad occupare praticamente tutte le coste meridionali della Terra di Mezzo e buona parte dei territori ad est delle montagne nebbiose col tempo tuttavia i suoi confini si sono ritirati e alla fine della Terza Era il territorio occupato non era che un'ombra della gloria passata pur continuando ad essere il regno umano più esteso e popoloso ad ovest dell'Anduin le sue principali province erano la Norien dove si trovava Minas Tirith, la capitale del regno il Lebennin, una regione verde e molto fertile dove si trova la città di Pelargir la seconda di Gondor per importanza e poi abbiamo l'Ithilien, una delle regioni più belle e fertili del regno di Gondor essa è compresa tra il corso del fiume Anduin e i monti dell'Effeldúath che costituiscono il confine naturale con la terra di Mordor tra le principali città di Gondor abbiamo invece Osgiliath antica capitale del regno e sede del Palantir di Osgiliath che dopo un periodo di declino fu declassata a fortezza militare abbiamo poi Minas Tirith, anche nota come Minas Sanor antica sede di Anarion e residenza estiva dei re di Gondor che venne elevata a capitale del regno a circa metà della terza era c'è poi Pelargir, una delle prime grandi città portuali fondate dai Dunedain alla foce dell'Anduin durante la seconda era questa era la sede della flotta di Gondor e durante la guerra delle stirpi fu la capitale di Castamir l'usurpatore e infine abbiamo Minas Tirith, città fortezza antica sede di Isildur e capoluogo dell'Itilien che venne occupata dal re stregone nel 2000 della terza era tra gli abitanti di Gondor la stirpe più importante era senza dubbio quella dei Dunedain erano questi i discendenti di quegli uomini dell'Ovesturia che si erano stabiliti nella terra di mezzo all'epoca della grande espansione coloniale di Númenor e che a seguito dell'inabissamento dell'isola si erano raccolti sotto la guida dei principi Isildur Reanarion i quali con la benedizione del padre Elendil crearono un regno Númenoreano fondando le città di Osgiliath, Minassanor e Minassitil l'altro numeroso gruppo etnico era rappresentato dai gruppi di uomini appartenenti alle altre stirpi della terra di mezzo noti come uomini mediani col passare dei secoli tuttavia anche a causa di guerre ed epidemie susseguitesi nel tempo i Dunedain diminuirono sensibilmente di numero e molti contrassero matrimoni misti con gli uomini mediani diluendo in tal modo il sangue dell'Ovesturia culturalmente gli abitanti di Gondor hanno mantenuto molte delle antiche tradizioni di Númenor anche se i discendenti puri dell'Ovesturia erano ormai una minoranza a Gondor esisteva una specie di religione civile nota come culto dell'identità che portava gli abitanti di quel regno a celebrare diversi riti in onore dell'antica gloria di Númenor e degli eroi Dunedain che l'avevano resa grande un esempio di questi riti è la consuetudine degli uomini di Gondor di rivolgersi verso occidente e osservare un minuto di silenzio prima di consumare i pasti e tale usanza viene descritta anche nel Signore degli Anelli Gondor era sostanzialmente una monarchia assoluta che al proprio vertice aveva tre importanti istituzioni il re di Gondor propriamente detto il sovrintendente di Gondor e il consiglio di Gondor all'inizio della propria storia Gondor era una diarchia governata dai figli di Elendil Isildur Reanarion e un reame vassallo del regno di Arnor dopo la morte di Isildur tuttavia suo nipote Meneldil approfittò della minore età di Valandil per assumere su di sé il titolo di re di Gondor andando a formare un reame separato i sovrani di Gondor discendevano dalla casa di Elros l'antica casa reale di Númenor ed esercitavano il potere assoluto nel reame guidando gli eserciti e gestendo l'ordinaria amministrazione dello stato il trono poteva essere trasmesso unicamente ad un erede maschio il quale doveva necessariamente appartenere alla stirpe reale della linea di Anarion poiché in essa erano presenti particolari doti di saggezza il principale simbolo del potere del re era la corona di Gondor ricavata dall'elmo da guerra di Isildur che i nuovi sovrani dovevano ricevere direttamente dal loro predecessore il sovrintendente di Gondor era inizialmente una carica non presente nel regno di Gondor ma dal regno di Minardil venne ufficialmente istituzionalizzata diventando praticamente la seconda carica per importanza dopo quella del re in seguito all'estinzione della linea di Anarion i sovrintendenti per evitare una mortale guerra civile assunsero la custodia del regno proclamando che avrebbero gestito il reame di Gondor fino a che il re o uno dei suoi discendenti non fosse tornato a reclamare il trono e infine abbiamo il consiglio di Gondor un antico organo con funzioni per lo più consultive che risaliva ai tempi della fondazione del regno ed era modellato sull'esempio di quello che era stato il consiglio dello scettro di Númenor Gondor ebbe per secoli l'esercito più potente e temuto dell'intera terra di mezzo questo era composto soprattutto da fanteria e cavalleria pesante e le sue armate nel momento di massima espansione potevano disporre in campo decine di migliaia di soldati le guardie della cittadella sono invece un corpo scelto di veterani incaricati della difesa della cittadella di Minas Tirith e hanno la particolarità di indossare antiche armature numenoreane e vestiti di colore nero un tempo le guardie della cittadella rappresentavano la guardia reale di Gondor e accompagnavano il re sul campo di battaglia ma dopo l'estinzione della linea di Anarion divennero incaricate della sicurezza del sovrintendente di Gondor e infine abbiamo i raminghi dell'Itilien un corpo militare dell'esercito di Gondor specializzato nelle operazioni di esplorazione e guerriglia questo venne creato sotto il regno del sovrintendente Ectelion II dopo che la provincia dell'Itilien venne conquistata dalle armate di Sauron e allora ragazzi finisce qui questa passeggiata per il regno di Gondor e ci tengo a precisare che questo video è un'introduzione a quella che sarà una vera e propria serie che ho intenzione di dedicare alla storia di questo regno ma per ora ci fermiamo qui e prima di salutarvi voglio ringraziare gli abbonati a questo canale che con un piccolo ma fondamentale contributo supportano ulteriormente questi contenuti e mi raccomando lasciate un bel pollice in alto iscrivetevi al canale e cliccate sulla campanella per rimanere aggiornati sui prossimi video e da Frank è tutto ciao ragazzi grazie